Questa ricetta è facilissima alla portata di tutti, farete un figurone. Briciola e biscotti. Aggiungi 3 cucchiai belli pieni di spalmabile alla nocciola nella di nocciole. Ora impasta con le mani. Questo sarà il ripieno. Preleva una parte di impasto e crea uno spazio al centro. Metti la nocciola e compatta bene. Dai la forma. Dovrebbe venire così. Una volta finiti, mettili in frigorifero o se vuoi fare prima il congelatore. Tanto mi dedico alla copertura. Sciogli il cioccolato. Aggiungi la granella di nocciola, mescola ed è pronta. Una volta freddi, tuffali nel cioccolato. Non vedo l'ora di assaggiarli, sono irresistibili. Sono sicura che dureranno pochissimo a casa mia. Vediamo com'è dentro. Buono! Buono!